Ciao a tutti, oggi parleremo di un prodotto nuovo che è il sapone solido scrub da utilizzare sia sul viso sia sul corpo ed è vegetale, artigianale, con oli vegetali, di olio di zucco e olio di cocco e con un'azione scrub dunque sfogliante, viso e corpo delicata, adatto dal sale e dall'argilla. Sono disponibili in erboristeria la nifea, varie profumazioni, sono tutte comunque fruttate o fiorite, molto delicate, tutti quanti con ingredienti di origine vegetale senza SLS o SLS, questi tensioattivi, questi ingredienti diciamo che possiamo trovare in molti prodotti cosmetici di origine sintetica e che possiamo trovare in commercio, sono dei tensioattivi che hanno un'azione lavante e con l'andare del tempo, continuando a utilizzarli ogni giorno, creano sulla nostra cute irritazione e vanno ad ostruire i pori, così che possiamo magari soffrire di dermatiti o di irritazioni varie, rendendo la nostra pelle molto più sensibile, molto più soggetta alle aggressioni esterne. Sapone solido scrub lo possiamo utilizzare benissimo sul viso e sul corpo, ha degli aromi delicati, dunque non sono aggressivi e non danno fastidio per quanto riguarda il profumo. Lo scrub lo possiamo utilizzare benissimo anche in istante per andare a purificare la nostra pelle in profondità, andando a togliere l'impurità, le cellule morte e un mito da sfatare è che non vanno a levare la bronzatura, perché gli scrub e dunque gli esfolianti vanno a levare lo strato diciamo di cellule morte che si depositano sulla nostra pelle ed è praticamente uno strato ossidativo che noi creiamo anche con la bronzatura, per cui quello che va a levare lo scrub è solo lo strato ossidato della pelle, quello che resta è la vera bronzatura, dunque possiamo utilizzarlo per tutta estate.